Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'esito positivo del tampone che è stato effettuato ieri e che poi è arrivato nella notte ha così conclamato il primo caso di coronavirus in Abruzzo. In principio fu l'uomo di Brugherio, località della bassa Brianza, molti abruzzesi sconosciuta fino al 27 febbraio del 2020. L'uomo, un cinquantenne bancario, era un componente della famiglia fuggita dalla Lombardia per potersi salvare dalla pandemia che aveva cominciato a colpire duro dal primo caso di Codogno, verificatosi una settimana prima. Il 21 febbraio avevano raggiunto la casa delle vacanze a Roseto degli Abruzzi, papà, mamma e due figli, ma lì il padre, il 27 febbraio, avvertì i primi sintomi e venne ricoverato al Mazzini. Lo raggiunsero presto, contagiati proprio dall'uomo, ma risultati positivi qualche giorno dopo, anche gli altri componenti della famiglia. Ma la storia, in questo caso, ha avuto un lieto fine con tutti i guariti e tornati poi a casa. Il ricordo dell'allarme scoppiato a Roseto e il panico che prese tutti coloro che abitavano nella zona è ancora vivo. Un salto indietro nel tempo, dove non si può dimenticare anche la prima vittima, un 58enne di Ortona deceduto per un malore improvviso e risultato poi positivo al tampone proprio a inizi di marzo. Da allora, da quel primo caso di 366 giorni fa, i positivi sono stati 53.900 e i morti 1.698. Numeri lontanissimi da quelli che erano i pensieri di allora, quando il lockdown era un termine e una pratica assolutamente sconosciuta e nessuno poteva pensare che si sarebbe arrivati a un anno dopo con il problema, che è ancora più grave. Si pensi che nella prima ondata in Abruzzo i casi positivi furono 3.780, solo il 7% del totale di oggi. Il resto, vale a dire gli altri 50.120, sono riferiti al periodo che va dal 1 settembre ad oggi. Per questo l'Abruzzo resta anche per la prossima settimana, in attesa del nuovo DPCM di Draghi, una regione bicolor per metà arancione e per metà rossa, salvata nel valore complessivo, ancora una volta, da un indice R conti clemente più del dovuto, addirittura in diminuzione rispetto alla scorsa settimana, 1.13 contro 1.17, ma la classificazione complessiva di rischio per la regione resta alta. Anche oggi i nuovi contagiati sono tanti, anche se meno di ieri, vale a dire 355, mentre il numero delle vittime resta praticamente stabile, vale a dire 9. Salgono purtroppo ancora i ricoveri nelle terapie intensive, che aumentano di 3 e diventano 77 i letti occupati, mentre diminuiscono di 4 e sono 611 i degenti nelle aree mediche. Per salvare l'indice RT, fortunatamente ci sono i guariti, che sono praticamente pari ai nuovi contagiati, 354.